Per quanto riguarda la partita, secondo me si riassume nel aver tenuto di testa per 30 minuti e aver fatto oggettivamente un quarto periodo, balisticamente veramente di alto livello. Non so, perché la dovrei rivedere, quanti dei 24 punti che ha segnato Roseto nel quarto periodo sono venuti nella fase in cui cercavamo un po' di gestire, ma immagino almeno 7-8. Di conseguenza l'aver cambiato tipo di difesa sui pick and roll a metà partita ha pagato, così come onestamente aveva pagato nei primi 20 minuti l'aver scelto di fare cambio, che abbiamo sofferto tantissimo chiaramente dentro, ma abbiamo tolto un po' di ritmo ai loro tiratori, che un po' era la chiave della nostra partita. Però nel secondo tempo abbiamo deciso di cambiare completamente difesa e secondo me a qualcosina è servito. A mio avviso paghiamo le tre partite in otto giorni, con le due trasferte, la seconda era giovedì, rispetto a tutti gli altri che hanno giocato mercoledì. Quindi le percentuali si abbassano molto anche per questo motivo. Abbiamo dato una rotazione più ampia, poi alla fine sul più 5 ancora una volta regaliamo due palloni che sono sanguinosi. E la partita gira lì, con i nostri due regali che facciamo sul palle persa. Per cui era una partita che potevamo vincere benissimo nonostante queste percentuali. Anche perché ritengo che Chieti abbia tirato troppi tiri liberi rispetto a noi. Cioè trovo un differente metro arbitrale in questa partita. Adesso passi gli ultimi sei tiri liberi fatti su fallo sistematico. Ne hanno tirati 33, siamo 33 a 17. Anche a 27 sono sempre 10 di più, sono troppi. Mi sembra troppi perché abbiamo attaccato uguale, difeso sporco uguale e bisogna fischiarli.